L'ex cancelliere tedesco Edmund Schmitz è morto ad Hamburgo, nella sua abitazione. Il suo medico personale non aveva ormai più speranze, nel primo pomeriggio la notizia si stava diffonendo a Macchiadorio, nella Germania. La situazione straordinariamente precaria di quest'uomo è degenerata, ma la moglie e la figlia non hanno voluto che si ricoverasse in ospedale. Era anzianotto, aveva pensato in 96 anni d'età. Un cancelliere tedesco dal 1974 all'82, le sue condizioni erano diventate sempre più gravi, soprattutto nelle ultime ore. L'ex politico dell'SPD era stato operato agli inizi di settembre per un trombo a una gamba e aveva lasciato successivamente l'ospedale per suo desiderio, come affermato dai medici in quella occasione. Vi ringrazio per l'ascolto, il video termina qua. Hermit Schmitz riposa in pace. Amen.